Signor Presidente, onorevoli colleghi, confesso che ho deciso di prendere la parola con una certa pena, perché mi appena vedere quest'Aula trasformarsi in un'Aula di Tribunale. Non è questo il nostro ruolo, onorevoli colleghi. Noi siamo chiamati oggi a votare su una cosa più semplice, anche se difficile. Ma è in dubbio che il dibattito che qui si è svolto tira in ballo altre questioni su cui sì è chiamata in causa la nostra responsabilità. Tira in ballo, una volta chiarito che dal mio punto di vista non esiste Fumus Persecutionis in questo caso, tira in ballo un'altra questione, altre due nella fattispecie. su cui temo che le Aule parlamentari non abbiano assunto le responsabilità che ci competono. Uno è la questione disinvolta dell'utilizzo del finanziamento pubblico, fatta con leggi ripetute in violazione di un esito referendario che in base alla nostra Costituzione è vincolante. La seconda è l'uso e l'abuso della carcerazione preventiva. E mi appena, colleghi, vedere grande emozione e attenzione quando si tratta giustamente di uno di noi, di un essere umano, ma di non vedere molto spesso nessuna di questa emozione e passione per la battaglia sulla giustizia giusta che stiamo facendo. Io, isolati da molto tempo, non vedo emozioni rispetto ai 27.000 persone in carcere in attesa di giudizio, di cui 14.000 in attesa del primo grado di giudizio. A queste responsabilità veniamo meno, cari colleghi, e mi piacerebbe che l'emozione che suscita questo dibattito oggi, giustamente da molti e diversi e opposti punti di vista, avesse poi delle conseguenze politiche sul nostro operario, su questi due temi, tra gli altri, di cui ho parlato. Invece, la nostra solitudine, la derisione, che spesso sento quando parliamo di giustizia giusta, o quando qualcuno che si dice di stimare come Marco Pannella utilizza la non violenza perché non ha più altro per farvi ragionare. Io credo che siano derisioni fuori luogo, così come è fuori luogo una grande passione su un caso che attiene giustamente l'alta Camera di questa Repubblica. E allora, colleghi, penso, e lo dico al collega Lusi, caro collega, non accetto che tu ci disprezzi così tanto da ritenere che la nostra o la mia libertà di coscienza venga solo nell'esercizio del voto segreto. Mi dispiace, la mia assunzione di responsabilità e di molti di noi si esercita liberamente anche col voto palese e a testa alta sono abituata a battaglie impopolari di cui ho pagato grandi costi. Ma non le consento di dire che la libertà di espressione delle nostre volontà può essere tutolata solo dal voto segreto. Questo davvero non è degno né di quest'Aula né dei suoi colleghi. E ho concluso, signor Presidente, nell'augurarmi davvero che ognuno, anche di quelli che ritualmente dicono la magistratura faccia il suo corso a condizione, sappiano invece che questo Paese ha bisogno di riforme profonde sulle infrastrutture giudiziarie al totale collasso. Queste sono le infrastrutture che rendono nel nostro Paese ormai l'assenza dello Stato di diritto una prassi costante. E quando non c'è Stato di diritto non ci sono più diritti. Ci sono favori, raccomandazioni, prebende, tutt'altro. Chi vuole invece ripristinare questo come priorità per una ripartenza del nostro Paese, non solo dal punto di vista economico, ma consentitemi dal punto di vista democratico, sappia che la più grande riforma che dobbiamo compiere è quella sullo giustizio e quella sui partiti politici. Perché vedete che i fondi pubblici diventino privati, anzi privatissimi, appena arrivano nelle casse del tesoriere, questo davvero non è sostenibile. E i cittadini già l'avevano capito. E la Costituzione più bella che abbiamo ce l'abbiamo a condizione di non rispettarla mai. L'articolo 49 della Costituzione parla chiaro sulla personalità giuridica dei partiti. Sono passati quanti? Sessant'anni. E siamo invece all'associazione privata. Questo vi volevo dire, in una situazione, come vi ripeto, un po' di pena. Ma io mi auguro di non vedere scene, come dire, di abbandoni non proprio dignitose, a mio modestissimo avviso, delle responsabilità che abbiamo. E che credo ognuno di noi abbia la forza di assumersele rispetto all'opinione pubblica e rispetto, intanto, verso se stesso. Siamo senatori della Repubblica, senatori e senatrici della Repubblica. Non si scappa di fronte alle responsabilità che si hanno. Grazie.